Lui le fa la domanda fatidica. Li vuoi sposare? Lei decide di metterlo alla prova. Scusa un attimo. Tim presenta la prima storia d'amore ad alta velocità. Protagonisti principali, Adriana. Diego. In Se mi prendi, ti sposo. Con la partecipazione straordinaria di Tommy e di Team Turbo. La nuova tecnologia di Team che saprà tenerli uniti ovunque si trovino. Team Turbo. Per chi vive ad alta velocità.